Ciao da Giardinaggio Irregolare, vi avevo promesso un video sul neutro in italiano per quello che riguarda la parità di genere. Ora sappiamo tutti che il neutro in italiano non c'è. Noi deriviamo dal latino, il latino aveva un neutro, ma questo neutro è stato assorbito dal maschile. Forse in questo la terminologia scientifica ha giocato un ruolo. Pensiamo per esempio al delphinium, il delphinium è l'atum, però questa è una mia impressione, non ne sono sicura perché linguistica non ne so niente. Noi ci sentiamo in continuo ritardo sull'inglese, in realtà non è esattamente così. Questo sentirsi in difetto nei confronti dell'inglese io lo accantonerei veramente di molto, perché la nostra lingua è molto più avanzata della loro. Loro non hanno avuto il tempo di sviluppare un maschile, un femminile, un neutro e le declinazioni. E questo però oggi paradossalmente li pone in una posizione di vantaggio. Noi siamo linguisticamente più avanzati, ma non ancora abbastanza da avere un neutro inclusivo sia di genere sia di orientamenti sessuali. Nel momento in cui lo è di genere, in qualche modo lo è anche di orientamento sessuale. O comunque lo potrebbe diventare in maniera più chiara. Ne sono state cercate di tutte, dall'asterisco al trattino, a qualcosa di, a vocali che appartengono più ai dialetti che non all'italiano, come la famosa schwa, che sarebbe una e sorda, ma ho la u che è l'unica vocale che non ha connotazione di genere. Però io immagino il rettore dell'Aula Magna dell'Università di Reggio Calabria, buongiorno a tutti! Crolla l'Aula Magna, la gente che ride. Quindi, qual è il fatto? Che comunque questo neutro va cercato anche tra le derisioni, anche tra la stanchezza che alla fine prende chi tenta di essere davvero inclusivo o inclusiva nel modo di esprimersi, anche parlando, cercando di evitare delle frasi specifiche, magari dicendo, no, ma chi si sente in questa maniera, magari avrebbe diritto di, non lo so, oppure chi fa, chi lancia il dado da venti, cose di questo genere. Chi prende il panto brazzolo, stia attento, e ritorniamo che, è difficile essere precisi nelle spiegazioni tecniche. E allora, ti prendono per stanchezza, e alla fine inizia a utilizzare quel concetto che è totalmente fantasioso del maschile inclusivo. Io stessa, poco fa, ho detto è difficile essere precisi, perché sono i maschi, poi devono essere precisi, anche le donne devono essere precise. Il neutro, quindi il neutro, bisogna continuare a cercarlo. Questi che ci sono, possono andare bene oggi, possono andare bene domani, in alcune occasioni. Molto bella è la storia della X, che, per chi ama il cinema come me, è quella che connota gli X-Men, che fa vedere la diversità come un valore, non come un disvalore. E in questo senso, gli X-Men sono proprio l'opposto degli Avengers, che invece sono molto straight. E povero Capitano America, e povero Bucky, vabbè. Quindi bisogna continuare a cercarle, nonostante gli sberleffi, e le risate di chi magari su Facebook può sollevare delle obiezioni, se si mette un asterisco, se si mette una chiocciolina, insomma, alla fine, tre righe di testo dove c'è una chiocciolina vanno bene. Dipende molto anche dal contesto. Alla fine, bisogna cercare di non strafare, anche per non cadere nel ridicolo, perché alla fine, il ridicolo non porta bene alla causa del femminismo, dell'equipollenza di genere e di orientamenti sessuali. Per quello che riguarda me, la mia conclusione è molto semplice. Il neutro verrà, ad un certo punto nascerà, nascerà da sé, e da dove nascerà? Da dove sono sempre nate le parole? Dai vernacoli, dai gerghi, dai grandi dialetti delle grandi città italiane. In Italia ci sono due grandi città, Napoli e Roma. E molto probabilmente, se un vero e proprio neutro ci arriverà, sarà da questo grande calderone di linguaggio. Ciao.